Pazienti teatini costretti a curarsi altrove. La sanità di Chieti è sempre più dirottata verso altri comuni e alcuni malati, anche oncologici, sono costretti a ricercare altrove cure e servizi che il Santissima Annunziata non può più fornire. Il diritto alla cura è anche alla cura con l'umanità e la comprensione delle problematiche che devono affrontare i malati che sono deboli e fragili nel momento delle cure. Per cui parlando di pazienti oncologici non possiamo mandarli a Teramo a fare radioterapia per 35 sedute perché significa rovinare proprio la vita a una persona che sta già male. E questo benché il governo abbia destinato all'Abruzzo 6,4 milioni per l'acquisto di nuovi macchinari. La somma, spartita tra l'Aquila, Pescara e Chieti, finora è stata spesa solo dal capoluogo adriatico. A noi risulta, da sommarie informazioni, che ci sono milioni di euro pronti per acquistare delle apparecchiature di ultima generazione. A noi risulta che ci sono dei progetti esecutivi che vanno mandati avanti affinché il percorso oncologico della ASL di Chieti venga ottimizzato. Noi con animo massimamente collaborativo ci siamo rivolti alle istituzioni, in primis al sindaco di Chieti e all'assessore che per fortuna sono anche due medici. E continueremo in questo percorso perché interpelleremo il prefetto, se sarà necessario anche il procuratore della Repubblica, perché vogliamo delle risposte chiare, precise e concordanti. Vogliamo soprattutto un cronoprogramma. E intanto il reparto di dermatologia va verso Ortona e quello di odontostomatologia si sposta a Lanciano. L'amministrazione comunale si schiera al fianco delle associazioni e sollecita la ASL. Occorre fare presto queste le parole del sindaco Ferrara. Insieme con le associazioni dei malati noi rivolgiamo l'invito alla dirigenza della ASL di velocizzare l'acquisto dei macchinari che sono andati incontro ad obsolescenza programmata, quindi parliamo della TAC, della PET-TAC, e anche di cercare di evitare lo spostamento di reparti, di servizi come la dermatologia, l'odontostomatologia, che rimangono essenziali per il nostro territorio, essendo anche dei reparti universitari.